Ciao ragazzi, vi è piaciuta la gara precedente di World Sim Series con le TCR con la Giulietta che scodava in maniera pazzesca? Oggi siamo ancora a Brand Snatch, ma siamo qui con un'altra gara sempre di World Sim Series, sempre con delle auto abbastanza difficili. Ci ritroviamo qui a gareggiare con Mazda MX-5, l'auto che io adesso sto guidando, e la 500 Abarth. Si chiama questa sfida Dilemma Cup, è presente a questo format su World Sim Series, lo trovate tra le gare disponibili. Prossimamente in uno dei miei video farò una breve introduzione, cercherò di spiegarvi come funziona questo format, questo portale World Sim Series, dove poter fare delle gare online su setto corsa, cercando di avere sempre un livello di partecipazione medio-alta di persone in gamba, persone rispettose, perché comunque il World Sim Series, i server di questo portale, hanno una sorta di rating, quindi se fate un po' qualcosa di non proprio corretto, se vi comportate male in pista, il portale automaticamente vi abbassa il punteggio al punto tale che poi magari non potrete più partecipare, o comunque venite bannati o comunque esclusi da determinate competizioni, proprio perché comunque siete pericolosi, o siete comunque persone che in pista sanno stare in maniera non proprio corretta. Quindi vi consiglio di, quando fate queste gare di World Sim Series, o comunque sempre, di non fare incidenti, di non combinare troppo i macelli, perché altrimenti ragazzi venite in un attimo esclusi. Sono belle gare, sono divertenti, oggi questa Dilemma Cup con Mazda MX-5 e 500 Abarth, che meraviglia! Abbiamo appena terminato la sessione di pratica, abbiamo fatto due giri di pratica, adesso ci saranno sei minuti, credo, di qualifica, e poi successivamente una gara sprint di dieci giri, o dieci minuti, se non erano dieci minuti o dieci giri. Adesso non mi ricordo bene, credo forse dieci giri. Il waiting time è partito e tra un po' inizieremo la sessione di qualifiche. Ok ragazzi, la sessione di qualifiche appena iniziata, come potete vedere il countdown, anzi voi non lo vedete, sono 5 minuti e 50, sono partiti tutti, ma io li faccio andare, perché così vanno avanti, non mi rompono le scattere, non trovo traffico, il mio giro da pezzente riesco a farlo in maniera più o meno decente. Andiamo adesso in pista, ci accodiamo e proviamo a fare almeno un giro di qualifica che sia decente. Che bel sound che c'ha la Mazda MX-5, quando parte sembra la concordia a largo dell'isola del Giglio, un po' non molto stabile. Quanto motore ha questa macchina? Quanto motore? ma è la trazione posteriore con le gomme fredde? Eh sì, madonna che gomme che ho! C'è la temperatura... La temperatura delle gomme è surgelata, mancano solo 4 minuti e 40 all'avviene delle qualifiche. e il bello è che questa è Brands Hatch, la versione classica, quindi non è la versione quella corta, ok? E' molto particolare. Le gomme qua non si scaldano, vabbè. Secondo me la 500 Hobart qui ha più possibilità di ottenere dei risultati, secondo me. Però vedremo. Boh, io ho preso la Mazda perché sinceramente la mia macchina personale non è una MX-5 ma è una Mazda che praticamente ha all'interno il cruscotto, è identico a quello delle MX-5, quindi... Dietro ho una 500 che praticamente mi tallona la grande. Beh ragazzi, secondo me la 500 Hobart qui va veramente tanto di più, va tanto. Intanto le gomme piano piano iniziano a raggiungere una temperatura umana, anche se siamo ancora lontani da un range, come dire, ottimale. Cercheremo questa è la parte di Brands Hatch più difficile secondo me perché fai quella frenata in appoggio, in difesa... se ce le hai tutte, tutte... Ecco, già ora tiene un po' più di prima. Oddio, gli ho appoggiato la quarta e è un po' morta. La temperatura delle gomme, secondo me, sono veramente bassine. Devo rimetterle bene prima della gara, devo risistemare un po' le pressioni perché... Non lo so, ho fatto già un giro e mezzo. Sono basse, sono basse, sono un po' basse. Vabbè, andiamo, andiamo. Vediamo di fare... Comunque, sono tutte 500 Hobart, ce ne sono solo tre di MX-5. Eh, da quello che vedo, tre o quattro, tre forse. Sono tutte 500 Hobart, vabbè. La prossima dilemma cap la farò con le 500 Hobart, ragazzi, fa nulla. Intanto la MX-5 è carina. Come scoda. Tagliata alla grande. Parò... Un giro... Ragazzi, ma proprio al limite della vergogna umana. Qua mi sa che devo aumentare le temperature almeno... Boh, due, tre. PSI. Eh, sono settimo. Ma credo che non abbiano fatto tutti un buon giro, quindi... Fino alla fine farò ancora più schifo. E come gli apporghi la marcia un po' più alta qua... Sta macchina proprio defunge. Ho 5 decimi in più. Cioè, meno nel senso, ho recuperato 5 decimi. Avevo recuperato un po' e li ho persi. Ahaha. Perché ho fatto... Questo pezzo l'ho fatto malissimo. I decimi sono passati a 4. Il tempo sta per scadere. Dovrei riuscire a terminare questo giro, ma tanto farà schifo ugualmente. Temperature veramente orribili delle gomme. 2 e 3. 2 e 3. Questa, ok, non se ne va. Cioè... Oh, non mi ha dato mica strada. Eppure non era nel suo giro... Incredibile. Vabbè. Ho chiuso malissimo. Decimo di 15. Una roba... Penosissima, penosissima. Temperature sono bassissime. Temperature delle gomme sono veramente basse. Vabbè. Ragazzi, sono comparso. Sono comparso, sono comparso in griglia e anche con un cappellino meraviglioso. Leggete qui cosa c'è. Che spettacolo, ragazzi. Vi ricordate? Wow. Magari questo cappello mi porta fortuna. Mi sono dimenticato di dirvi che le pressioni delle gomme in questa gara non si possono regolare perché in questa gara il setup è bloccato. Puoi solo caricare la benzina, quello che ti serve. Quindi, in realtà, lasceremo tutto com'è perché non si può fare nulla. Comunque, mancano 28 secondi alla partenza. Io direi di entrare in griglia. E parto undicesimo addirittura. Alla fine sono passato in undicesima posizione. Bellissimo. Quattordici, tredici secondi al via. Siano praticamente... Beh no, le Mazda ce n'è. Dai, ce n'è qualcuna. Credevo meno. Però c'era qualcuna. Avanti ce n'è alcune. Io sono proprio l'ultimo. Mamma mia. Proviamo a partire bene. Qua ci si. Ragazzi, occhio a fare gli incidenti su World Sim Series perché il vostro rating si abbassa immediatamente. Quindi, quando vedete un groviglio di macchine come quello che abbiamo appena visto ora, andate veramente molto molto cauti perché ogni urto vi fa abbassare il punteggio dipende dal tipo di urto. E quindi il punteggio basso non solo vi penalizza a livello comunque di profilo personale, ma poi vi preclude l'ingresso ai server nel momento in cui scende al di sotto di una certa soglia. Quindi, i contatti evitateli sempre, sempre. Vedete il fenomeno qui di lato? Proprio forte. Benissimo. Io lo lascio andare. Freno un po' prima. Non mi interessa. Vai, vai. Quindi, un'altra cosa bella di World Sim Series è che si lotta con tutti e tutti lottano contro di te. Cioè, se sei a metà griglia e chiudi a metà griglia, però ti sei lasciato dietro dei giocatori con un ponteggio più alto di te, guadagni dei punti. Guadagni dei punti in proporzione maggiore. Viceversa, se sei a metà griglia e chiudi a metà griglia e davanti a te ci sono giocatori che hanno un rating più alto, ovviamente questo tuo punteggio, non dico che scende, ma non guadagni tanto. Quindi, in realtà, è meglio arrivare ottavi e mettersi dietro gente con un punteggio, un rating alto, piuttosto che primi e dietro gente stesso con un rating alto. Però, ecco, l'importante è avere comunque un... cercare di... guardate, orpommo! Mi ero distratto, ragazzi, mi son distratto, cioè... mentre parlavo, questo mi ha distrutto, mi ha devastato a retromarcia, vabbè. Quindi, dicevo, l'importante è avere comunque la possibilità di arrivare in un punto della classifica dove dietro di me vi ritrovate, dietro di voi, vi ritrovate qualcuno con un rating più o meno come il vostro, se non più alto. Perché se è più alto, vuol dire che, proporzionalmente, voi avrete un punteggio maggiore. Comunque, io sono finito in tredicesima posizione, sono penultimo, dietro di me c'è quest'altro scapestrato con un'altra Mazda che vuole fare il fenomeno. Vai, vai, vai da dentro. Va bene, va sull'erba, va da rari. Mi sa che il fenomeno era lui quello che si è girato, però... E adesso sono felicemente ultimo. Ragazzi, bellissimo, emozione eccezionale. Sono ultimo. Ma l'avete visto l'incidente? Vabbè. A volte, vi devo dire, in alcune gare mi sono divertito di più a gareggiare tra l'ultima e la penultima posizione che tra le prime. Non è questo il caso. Però, in alcune gare, mi sono divertito tantissimo, nelle ultime posizioni, a cercare di non arrivare proprio ultimo-ultimo e lottare per la penultima posizione. Come magari in questo caso. Che frenata ha fatto questo qua? Che frenata? Si è fermato lì. Ma si doveva frenare lì? Ma si può frenare lì? Non lo so, ragazzi. Non lo so. Come vi dicevo, è facile qui incontrare gente molto in gamba. C'è normalmente gente che sa che ha un rating, sa che c'è un punteggio. Però, a volte, vedete, c'è gente che lui poteva fermarsi prima, no? Magari ha un problema la macchina. Si fermava prima, costava, no? Si è fermato in un punto di staccata, si è fermato nel punto più maledetto del circuito. Cioè, come se qui adesso in appoggio uno che ha il motore e si ferma qua in mezzo. Ma perché? Ma perché non fermarsi nei punti giusti? Comunque sto facendo una gara in solitaria. E, vabbè. Riuscirò a raggiungere l'amico qui davanti con un'altra Abarth. Sono tredicesimo. Che brutta gara, raga. Mi sa che questo cappellino lo putterò nell'immondizia. Non è che ha portato tanta fortuna, eh. un cappellino zero. Un cappellino di zero. Mabbè. Cerchiamo di acchiappare l'amico con la 500A. Cioè, sto scannando le marce io. Fino all'imitatore, proprio a morire. Qualcuno qua si è distrutto, disintegrato. Ecco. E infatti. Vabbè, almeno qualcuno con cui lottare. a 10 minuti di gara. Mancano 4. Ragazzi, veramente questa gara è andata malissimo. Mancano ancora 4 minuti, ma... Cosa volete che possa fare, ormai? Cosa posso recuperare? Niente. Due cicorie posso recuperare. Un po' ammaccatello, l'amico. Sono uscito un po' meglio. Ho l'interno, ma qua l'interno è un po' da sfigati. Però non mi ha tamponato. E' bravo. Non mi ha toccato. Gli ho chiuso la porta un paio di volte, ma non mi ha toccato. Bravo. Eh, vabbè, si è girato da solo. Ha scodato da solo. Vabbè. Comunque è l'undicesimo, eh. Undicesimo. Mancano 2 minuti e 40. Non credo di poter fare meglio di un undicesimo posto. Diciamo che il contratto all'inizio mi ha penalizzato. Non è che io so un grande campione, eh. Però il contatto iniziale mi ha penalizzato abbastanza. Così. Diciamo che le gomme non sono in pressione, ci sono le temperature abbastanza basse, ma fondamentalmente in quella maledettissima frenata dopo, diciamo, il traguardo, il retrotreno è abbastanza piantato. Comunque questa macchina è fantastica. Il cruscotto mi sembra di guidare la mia, perché la mia Mazda è praticamente identica. Dentro è identica. Bellissima. C'è questo trenino di 500. Manca 1 minuto e 42. Non potrò mai raggiungerli. Mai. Mannaggia, mannaggia. 1 minuto e 30. Mannaggia. Eh, ciao. Sono andato malissimo qua, malissimo. Magari tutti e tre si danno una botta, ecco. Magari uno è andato fuori. Magari si annodano quei due davanti. Madonna, si è girato dietro di me. Cioè, l'avete gustato allo specchietto, ragazzi. Incredibile. Cioè, mi ha sfiorato. Mi ha sfiorato e si è girato da solo, non so come abbia fatto. Ma si è girato. Mi è passato proprio a un gentiletro dal paro ulti posteriore. Beh, forse però questo qui... Niente, sono uscito male, 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 qua. Vediamo se... L'ultima lotta col salzare tra i granti. Vediamo di uscire bene qua. Sono uscito un po' meglio, un po' meglio. Però, in allungo, guardate come... Guardate come mi abbandona l'Abert. In allungo, va, va. Qui devo infilarla. No, no. Mi stringe. Ma come mi stringe? Guardate come mi stringe. No, vabbè, devo all'aventare 5 secondi. Questo maledetto, dai, no, dai. Dai, sei veramente un b***o. Che b***o mi ha spinto dentro. L'avrei passato. L'avrei passato. Che dite? Io l'avrei passato. Però ho tagliato come un maledetto. Io. Giustamente mi stringeva. Insomma, giustamente. Vabbè. Finito. Decimo. Finito decimo. Vabbè. Ragazzi, World Sim Series. Gara orrenda, però divertente. Se non ci fosse stato quel contatto iniziale, probabilmente potevo raggiungere qualche posizione un po' più carina. Ragazzi, spero che questa gara vi sia piaciuta. Ci vediamo al prossimo video. Buona serata, buona giornata. E a presto. Ciao, ciao, ciao.